12 comuni interessati, 13 interventi, 764.000 euro di finanziamenti. Questa è la ricaduta nel bellunese degli accordi di programma sottoscritti dalla Regione, tramite l'assessore deputato Elisa De Berti, con 111 enti locali veneti per una serie di investimenti per la mobilità e la sicurezza stradale. Gli interventi sono stati scelti scorrendo le graduatorie approvate nel 2017 e nel 2018 per lavori di consolidamento e messa in sicurezza della viabilità di interesse comunale. Quattro operazioni riguardano il Feltrino. Innanzitutto c'è la sistemazione di via panoramica a Feltre, intervento da 280.000 euro di cui 126.000 messi dalla Regione. Due interventi a Seren del Grappa, ovvero quello per l'adeguamento della strada della Valle di Seren e la messa in sicurezza dell'incrocio tra la strada delle montegge e quella in uscita dalla zona artigianale di Erasai. Su un totale di 260.000 euro ne arriveranno 180.000. Finanziato anche il miglioramento della strada di accesso a Ciladon di Querovas, in fondo alla Valle di Schiavenin, e quello del collegamento Leei-Borda-Alamont. Per Borgo-Valbelluna un intervento in centro e uno in periferia, a Mella ripavimentazione di via Cavour, a Coldartent, la sistemazione della strada di accesso al sito naturalistico. Quattro interventi tra Cadore e Comelico, con la manutenzione della strada tra due aree naturalistiche a Perarolo, la messa in sicurezza dell'accesso a Masaria e a Cibiana, la ristrutturazione del passaggio di Riva dei Coroto a Borca e vari interventi minori a San Pietro di Cadore. In Agordino la sistemazione dell'accesso alla chiesa di San Simon, a Vallada.